Ha paura. Potrebbe funzionare. Imprigioniamo Mephisto nella pietra e torniamo da Lorath. Poi sigilleremo i cancelli degli inferi, lasciando qui Milit. Vi agguanterà prima che possiate fuggire. E se quando lo farà, io sarò nella pietra, prenderà il mio potere. Non lasciate che l'odio per me accechi il vostro buonsenso. Nirel, non mi fido dei miei pensieri su Mephisto, ma dei tuoi sì. Fa quel che ritieni giusto. Le vostre vite, insieme a quelle dell'umanità intera, dipendono da ciò che farete adesso. Scegli con cura. Avete segnato qui il vostro destino. Speriamo che abbia funzionato. Andiamo. Lilith ci darà la caccia. Devo farla finita. Troverò Lorath. E sistemeremo tutto. Poi ti aspetteremo alla cappella. Che non sia l'ultima volta in cui ti vedo. Siamo intesi? Sì. 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 Sappi che il dolore che proverai sarà qualcosa di leggendario. Non posso ancora farlo. 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 Eppure, eccoci qui, di nuovo. Vi ho dato il libero arbitrio. E l'avete dilapidato, sprecandolo in una crociata che nemmeno comprendete. Avete scelto la tirannia, alla libertà offerta. Che inutile spreco del mio dono. Senza di me non potrà esserci vittoria. E il suo prezzo sarà più alto di quanto immaginiate. E il suo prezzo sarà più alto di quanto immaginiate. E il suo prezzo sarà più alto di quanto immaginiate. E il suo prezzo sarà più alto di quanto immaginiate. E il suo prezzo sarà più alto di quanto immaginiate. E il suo prezzo sarà più alto di quanto immaginiate. E il suo prezzo sarà più alto di quanto immaginiate. Grazie.